Ciao a tutti, come state? Spero vada tutto bene. Oggi voglio farvi il mio solito video su prodotti finiti del periodo e come potete vedere oggi ho deciso di non truccarmi, fa troppo caldo, non c'ho voglia, poi è sabato mattina, non penso che uscirò di casa in tutto il giorno quindi non ho assolutamente voglia di farmi carina, però so che mi perdonate perché tanto a voi non interessano queste cose iniziamo subito perché come al solito io ho un botto di prodotti finiti in ultimo periodo il primo è questo bagnoschiuma di tesori d'oriente, questo qui è il persian dream, ve ne ho parlato miliardi di volte penso che sia il settimo che finisco negli ultimi anni, l'odore mi piace un sacco e ho scoperto che piace un sacco anche a Jacopo sapete che questo è un profumo che utilizzo soprattutto in estate, questo è un profumo che ricorda un po' l'odore di Baccarat Rouge con ovviamente un bel po' di melograno e altre note più fruttate e acidule e ho scoperto che questo prodotto lo adora anche Jacopo, infatti era quasi finito del tutto lui e lo comprerò di sicuro di nuovo iniziamo a bomba con tutte le varie maschere d'iso perché sapete che io ne uso tantissime sapete che poi in realtà non ho trovato ancora maschere d'iso che effettivamente facciano tutta questa differenza però è appunto una coccola che mi faccio una volta alla settimana la prima è questa qui al carbone purificante da Garnier poi abbiamo questa idratante sempre di Garnier queste invece sono quelle della Misha e le avevo acquistate in un pack se non sbaglio tipo di 20 maschere d'iso non mi ricordo se le ho prese su Amazon, mi pare di sì, ve le lingue o semmai giù nel box informazioni e infatti le sto testando una a una, sono tutte diverse questa ad esempio è al T3, questa qui al cetriolo, questa al tè verde un'altra della Garnier purificante questa è il ginseng, questa qui invece è il burro di karité questa ha la perla, ha l'aloe, ha la patata, ha il limone, ha il riso due alla vitamina C della Garnier, questa è la mia preferita un'altra alla vitamina C che sinceramente non ricordo dove l'ho acquistata se da Primark o da qualcosa perché ho strappato la parte sopra del marchio quindi non me lo ricordo questo balsamo formato da viaggio di Alama, a me piace un sacco questo marchio infatti ho già ricomprato sia lo shampoo che il balsamo perché ho finito anche lo shampoo ma per sbaglio l'ho buttato via e io di solito questi qui li prendo una volta o due l'anno per appunto portarmeli magari quando siamo un weekend via perché appunto sono in questa confezione qua, sono molto molto comodi e questo in realtà è un ottimo marchio per la cura dei capelli sempre per i capelli ho finito shampoo e balsamo della Redken All Soft Mega Curls mi sono trovata bene con questa combo sinceramente adesso ne ho provata un'altra la sto testando in queste settimane del marchio Giada quello con la Y-G-I-A-D-A non so bene come si pronunci non mi sta facendo impazzire però insomma testerò altri prodotti per capelli ricci se avete delle combo di shampoo e balsamo per capelli ricci che adorate fatemelo sapere giù nei commenti un altro bagno schiuma che ho finito è questo di Balea al Buttermilk & Lemon ed è buonissimo questo qui sa veramente di pasticcini al limone mamma mia è di una dolcezza incredibile questo se amate Bake di Acro se amate Lemon Tart di Todor Scalottinis Devotion Dolce Gabbana cose del genere dovete assolutamente sentirlo un altro bagno schiuma che ho finito è Ambra Liquida di Erbolario è un profumo che adoro questo qui sapete che ha avuto anche per qualche anno il profumo Ambra Liquida poi non l'ho più ricomprato ma è buonissimo è un profumo che veramente mi fa impazzire e forse lo ricomprerò la prossima stagione ma anche il bagno schiuma è ottimo ho finito una maschera per capelli questa qui è l'olio straordinario di Jojoba maschera nutriente per capelli secchi e spessi della Elvive mi l'ho trovata bene soprattutto il profumo era buonissimo delizioso veramente super dolce e mi ricordo anche che mi l'ho trovata anche molto bene però diciamo che per capelli sto sempre testando cose nuove quindi è difficile che io continui a ricomprare lo stesso prodotto ho finito due saponi per le mani questi sono entrambi di Bath & Body Works il primo è Arctic Woods non era male ma non era il mio profumo preferito questo invece io vi giuro che non vedo l'ora l'ho già ricomprato ma è una cosa che tengo soprattutto per l'autunno e per l'inverno perché questo qui è Vanilla Bean Noel e è proprio il profumo alla vaniglia più buono che esista anche Jacopo è ossessionato da questo profumo perché tra me e lui non so chi ama di più il profumo alla vaniglia veramente infatti ogni volta che compro prodotti alla vaniglia dopo li utilizza sempre anche lui o per skin care o per il corpo eccetera e questo qui è veramente il più buono in assoluto infatti non vedo l'ora che arrivi un attimo l'autunno per ritirare fuori questo qui in più questi fatti in mousse sono bellissimi hanno proprio la consistenza in mousse ottima ho finito due sieri per il cuoio capelluto questo di Whey ve ne avevo già parlato e quando ho finito questo anziché ricomprarlo non so perché non l'ho ricomprato perché veramente spoiler tra i due preferisco di gran lunga questo infatti lo ricomprerò di sicuro ho voluto provare questo qui di Kerastase che è il Genesis siero fortificante questo fatto così ma devo dire che non mi ha fatto impazzire uno non ho notato i risultati che ho notato invece con questo due mentre questo qui è proprio liquido proprio acqua praticamente quindi io lo applicavo la sera e la mattina già si era assorbito e i capelli non risultavano con un effetto sporco assolutamente no questo invece aveva una consistenza estremamente gelatinosa quasi come non so il gel di aloe quindi molto appiccicoso e era difficile da stendere perché mentre questo qui appunto con le goccioline col contagocce qui si distribuiva molto bene nel cuoio capelluto poi quando andavate a massaggiarlo questo invece già direttamente con questa pipetta era terribile perché tutto il prodotto si appoggiava intorno a questa pipetta quindi era difficile effettivamente applicarlo su quello capelluto perché tutto il prodotto che era qua esterno non andava su quello capelluto ma si appoggiava su tutto il resto dei capelli senza tanto senso e in più appunto era troppo denso come prodotto infatti era più difficile anche poi di andare a massaggiare e non ho notato grandi differenze quindi questo qui non lo ricomprerei sinceramente mentre questo non vedo l'ora di ricomprarlo ma appunto aspetto che si abbassi un velo la temperatura perché io vedo che in estate utilizzare sieri per il cuoio capelluto faccio molta fatica perché appunto sudo tanto io sudo tantissimo il cuoio capelluto e già devo lavarmi i capelli non tutti i giorni ma un giorno sì e un giorno no quindi faccio molta fatica a prendermi cura dei capelli fare maschere, fare trattamenti in estate e lo prenderò di sicuro di nuovo ma appunto aspetto magari settembre, metà settembre finito un dentifricio, niente di straordinario come al solito le saponette della DAV questa qui ne ho una giusto per farvi vedere però in realtà le utilizzo sempre nel senso che ogni volta che finisce la ricompro e le utilizzo sempre queste qui originali ho finito la mousse detergente di Inestasy questa qui è la mia mousse detergente viso preferita l'ho già comprata e penso che sto finendo già anche quella perché secondo me sono già arrivata tipo qui anche perché la utilizza anche Jacopo quindi la finiamo ancora più velocemente la ricomprerò di nuovo di sicuro perché veramente è fantastica non la utilizzo per struccarmi perché per struccarmi utilizzo l'olio struccante e questa qui invece la uso come seconda detersione oppure la mattina come prima e unica detersione parlando di oli struccanti ho appena finito questo qui della Boscia il Makeup Breakup Cool Cleansing Oil mi è piaciuto, non so se lo ricomprerei perché sto già finendo un altro olio struccante un'altra mousse viso che ho finito ultimamente questa qui è della Kiko, la Pure Clean Foam non mi è piaciuta tanto come quella di Inestasy infatti questa qui non la ricomprerò ho finito l'acido velicolico di The Ordinary l'ho già ricomprato questo qui lo utilizzo sia sul viso che sul corpo anche per aiutare con il sudore sotto le ascelle da utilizzarlo magari un giorno sì e un giorno no e a volte l'ho anche utilizzato sul cuoio e cappelluto per fare una maschera esfoliante ho finito il mio amato 8 hour cream di Elisabeth Arden è un prodotto che io adoro, l'ho già ricomprato e anche questo qui penso di averlo già ricomprato 8 o 10 volte in tutta la mia vita perché veramente lo utilizzo da tantissimi tantissimi anni questo è un prodotto che utilizzo soprattutto sulle labbra in realtà ma anche sulle cuticole e di solito di inverno e in estate non lo utilizzo tantissimo perché appunto è molto denso molto ricco l'unica cosa brutta di questo prodotto è il profumo nel senso che io ormai con gli anni mi sono abituata e mi sono un po' asuefatta da questo odore però ha un odore terribile cioè ogni volta che qualcuno sente questo profumo perché magari glielo propongo gli dico usa questo prodotto per le labbra o qualcos'altro tutte le persone sono disgustate da questo odore e non capisco come facciano a fare un prodotto con un odore così terribile io vi dico che negli anni mi sono abituata e adesso inizia quasi a piacermi o comunque non ci faccio più caso però se ci penso è veramente un odore terribile sa di medicinale è proprio una cosa bruttissima non so come facciano sinceramente a non aver pensato di farlo con un profumo più buono però comunque continuerò sempre a comprarlo un'altra crema che ho finito è la Dream Cream di Lush la ricomprerò di sicuro il prossimo autunno io in estate tendo a non utilizzare tante creme corpo perché sudo tantissimo e mi fa schifo la sensazione della crema corpo infatti questa qui l'avevo finita già un paio di mesi fa l'ho utilizzata soprattutto come crema mani più che altro e magari tipo crema gambe cose simili crema per le ginocchia per i gomiti posti in cui magari sono un po' più secchi un profumino che ho finito è questa Travel Size di Hibiscus Mahajad ve ne avevo parlato giusto la settimana scorsa perché ho acquistato la full size e vi dicevo appunto che avevo finito la Travel da 5ml questo è un profumo che a me fa impazzire è veramente un profumo stupendo mi fa proprio girare gli occhi dietro la testa è uno dei miei profumi preferiti e sono super felice adesso di averla full size per quanto riguarda la make up ho finito sempre i miei soliti prodotti quindi I Love Extreme di Essence questo qui è il mascara che utilizzo da mille mila anni il Fix It sempre di Essence che è il mascara per le sopracciglia per tenerle ferme comprato, ricomprato, ricomprato miliardi di volte il mio correttore preferito di Bella Oggi questo qui è il Feel Glow e poi la matita per le sopracciglia questo qui è della Kiko Eyebrow Micro Precision e io devo dire che per il make up salvo alcuni prodotti che magari sono un po' più costosi tendo sempre a puntare su cose molto economiche infatti io adoro appunto Bella Oggi, Essence, cose del genere bene, abbiamo fatto super in fretta perché abbiamo già finito il video di oggi io vi ringrazio tantissimo vi mando un mega bacio come al solito e buona giornata ciao ciao